CUCCHI STEFANO Sono Cucchi Stefano, nato a Roma il primo ottobre 1978. Si dichiara innocente o ammette l'a debito? Allora, io mi dichiaro innocente per quanto riguarda lo spaccio e colpevole per quanto riguarda la detenzione. Scusi, riforma! Ma sei scemo! Ho un fratello scemo! Avevi detto che stasera dormirei qui. Stasera non posso, vado a fare un giro con un amico. Che stanno a fare qua? E' qua che c'è di bello fare. Siamo carabinieri, dobbiamo fare una preposizione. L'hanno arrestati in piena nuca e... uno sta fanno ritornare. Devi dirci la verità e basta. E' da 15 anni che la verità è sta roba qua. Niente è successo. E' meglio che dormimo da voi. Dobbiamo entrare. Almeno sapere come sta. Non sappiamo neanche che cosa gli è successo esattamente. Possiamo parlare con i medici? Cosa è successo? Sono male, c'ho freddo. Fammi vedere questi occhi. Lasciate questa, eh! Scrivi che il paziente rifiuta la visita. Il dolore è traditore. Viene fuori piano piano. Guardia! Guardia! Bravo ciao l'hova. Grazie a tutti. Grazie a tutti.